Ecco, vediamo la gente che si diverte alla 27esima festa dell'Organetto 2016. Qui la gente si diverte a ballare con il gruppo Battista e l'Eco dei talenti. Qui c'è un grande pubblico dove gli organizzatori hanno allestito la Sagra. Vediamo l'Associazione Organetto 2000 Onlus di Frigento. Ecco, vediamo Fosilli al sugo. Qui vediamo il spezzatino di vitello, patate e peperoni. E qui vediamo i mugliatielli. Poi vediamo un po'. Ancora dall'altra parte vediamo pasta organetto. Questa è la famosa pasta organetto che è stata presentata qui da noi alla festa dell'Organetto. Vediamo dove si parte arrosto, gli arrosticini, la salsiccia. Questa è la famosa pasta organetto che è stata presentata qui da noi alla festa. Questa è la famosa pasta organetto che è stata presentata qui da noi alla festa dell'Organetto. La distribuzione di panini, birra e coca. E qui patatine, distribuzione delle patatine fritte. Ecco, vediamo qui dove si trovano le persone che mangiano. Ci divertono. Ci divertono. Ci divertono. Ci divertono. canali di Bible con mare sani, ci differtono. Ci divertono. Ci divertono. Ci divertono. Grazie a tutti